che ride con noi, mister buonasera buonasera ecco tra le squadre che oggi fanno un bel passo in avanti anche se siamo solo l'anno non aggiornata però ottengono quella vittoria che chiaramente aiuta ad andare avanti oggi si ringrazia Ritano in questa sfida con il Bocale e com'è stata mister? no guarda, è stata dei due volti nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita anzi forse prima del tempo abbiamo fatto un'ottima partita perché abbiamo cercato di giocare sempre abbiamo costruito bene siamo arrivati al gol ne potevamo fare altri due poi a fine del primo tempo ci stavamo complicando la vita da soli però un primo tempo abbastanza buono abbiamo giocato abbastanza bene questo mi è piaciuto nel secondo tempo invece non so perché ci siamo diciamo che abbiamo tirato ieri in barca non riuscivamo a giocare troppi lanci lunghi e il Bocale si è fatto pericoloso due o tre volte poteva anche hanno rischiato anche di pareggiare e buttare via comunque una partita dove avevamo gestito bene tutte le situazioni però alla fine è andata bene e ci ha fatto prendere gli appunti 15 punti oggi insieme all'isola Caporizzuto non significa nulla chiaramente o no o significa qualcosa significa che se oggi siamo qui insieme all'isola Caporizzuto è cambiato ancora lungo e deve lavarsi quindi ti ripeto domenica dopo domenica vediamo quello che esce no non fa confusione Alessandro Carini davvero vediamo quello che esce di questo torneo che è difficile anche per noi da decifrare che davvero da anni non si vedeva qualcosa del genere sì ne sono convinto anche io da tanti anni che un torneo meno equilibrato già la decima partita così si era non si era visto la butto lì che non me ne voglia nessuno a livello qualitativo questo torneo non è che sia uno dei migliori quindi diciamo che la classifica il campionato va verso l'alto perché comunque tutte le squadre hanno un che per vincere la domenica ecco chi sbaglia meno forse alla fine vince sì quindi tu dici c'è un equilibrio perché non c'è qualità alla fine guarda la differenza come in tutti i campionati rettantistici che fanno gli under gli under sono difficili da recuperare chi ce li ha si ritene bestetti chi non ce li ha o chi ne ha pochi la domenica uno ha problemi per fare formazione per fare il modulo perché magari c'è l'infortune c'è la squalifica quindi le rose sono abbastanza strette almeno levato due o tre squadre almeno per le altre quindi è difficile vedere anche la giusta qualità perché comunque gli under 2003-2004 già ce l'hanno in serie D quindi se un 2003-2004 deve scegliere è normale ed è giusto che scegliere in serie D che giocare in accendenza e quindi si va a calare sempre purtroppo la qualità i giocatori più bravi magari i ragazzini più bravi e non da crescere diciamo perché comunque tu ti trovi ragazzi che comunque anche se sei nel campionato devi cercare di crescere farli diventare giocatori allenamento pallonamento ma intanto le partite passano e tu giocatori pronti non ne hai quindi è difficile da questo punto di vista dove è la difficoltà come me gli altri gli altri 16 tecnici 15 tecnici che c'è noi cerchiamo di di fare avanti di portare avanti due lavori sia nel campionato che nel crescere anche i ragazzi ma c'è un problema di base del fatto che non c'è un lavoro adeguato di base per valorizzare dei ragazzi che magari ci sono però non si riesce a valorizzare a tirare via oppure proprio è il periodo che magari i ragazzi sono ristratti da alto e come si dice non si avvicinano al calcio qual è secondo me secondo me è zeccato il punto ecco dove sono le responsabilità c'è poca reperibilità ecco ma qua non è una questione di responsabilità anche perché non è più il calcio oggi abbiamo tutto i ragazzi hanno tutto quindi possono scegliere tranquillamente se giocare a calcio o meno una volta per noi era l'unica soluzione per per uscire in strada oppure per fare per tentare di sbarcare il lunario ecco quindi però cambiano i tempi dovrebbero cambiare anche i sistemi per avvicinare i ragazzi al calcio è quello è quello ma non è facile però non è facile perché comunque le scuole calcio ci sono e sono anche buone sono anche attrezzate il problema è che se i giocatori si 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 avvicinano se i ragazzi si avvicinano ecco questo qua però questo è un discorso che purtroppo potremmo stare ora qui a parlare quindi non è quello il problema il problema è ripresire dei ragazzi che hanno voglia che non ti lasciano dopo tre giorni perché non hanno più voglia di allenarsi non hanno più giocare è difficile però in tutto questo noi cerchiamo di fare il giusto per almeno cercare di dare uno spettacolo decente anche se siamo in eccellenza quindi oggi sono contento per i primi 45 minuti meno per i secondi ma soprattutto anche grazie a Bocale che nel secondo tempo ha alzato anche lui e l'Asticella e quindi ci ha messo anche in difficoltà quindi merito a noi per il primo ma merito anche a Bocale perché comunque nel secondo tempo ha fatto qualcosa in più grazie mister per l'intervento grazie grazie a tutti